E va dei domiciliari e 42 anni finisce in carcere. I carabinieri della sezione radio mobile della compagnia di Siracusa hanno arrestato un pregiudicato di 42 anni nel luogo groiamente indiziato di evasione. L'uomo già è domiciliare per violazione della normativa sugli stupefacenti è risultato assente al controllo ed è stato rintracciato dai militari per le vie del centro urbano. L'arrestato dopo le formalità di diritto è stato condotto presso il carcere a cavadonna di Siracusa. Grazie a tutti.